Cirpea è una delle società più vecchie d'Italia in cosmetica e in profumeria con oltre 70 anni di attività. Si è occupata in questi anni di diverse società internazionali e oggi gestisce una quarantina di marchi lavorando sia in profumeria selettiva, profumeria di nicca e profumeria allargata. Tra questi marchi il più importante secondo noi anche per diffusione internazionale è sicuramente CVN che potete vedere, più marchi potete vedere alle mie spalle. È una linea molto importante anche dal punto di vista tecnico perché è basata sulle ricerche dei premi Nobel nella medicina di 3-4 anni fa che hanno vinto un premio, appunto il premio Nobel. Su questo concetto, che corrisponde quindi alla capacità dei telomere di essere ridotti con l'augmentare dell'età, questi primi nuovi hanno scoperto un principio attivo che riesce a bloccare la riduzione dei telomere. In base a questo principio attivo abbiamo poi realizzato la linea, oggi diffusa in una trentaina di mercati nel mondo, con effetti rigenerativi veramente molto evidenti, molto importanti. Altra linea che oggi presentiamo, novità assoluta mondiale, è MySkin. La prima linea, personalizzata, realizzata al mondo. Cosa vuol dire fare una linea personalizzata? Permettere alla donna di realizzare lei stessa a casa propria il prodotto che in quel momento ha bisogno. Ogni donna, ogni pelle cambia necessità di prodotto la mattina, la sera, d'estate, d'inverno. In questo modo la donna, la consumatrice, riesce a realizzare il prodotto perfetto per lei in quel momento. Questa linea oltretutto è supportata anche dall'esame di una macchina molto particolare, che permette di dare lei stessa le indicazioni sui prodotti da usare, perché permette di avere un esame non solo dell'epidermine, ma arrivando fino al derma. Quindi una linea assolutamente straordinaria e innovativa. Il futuro della cosmetica.